La cultura e il mondo dello spettacolo in piazza per manifestare contro le nuove misure, contro le nuove restrizioni a Cagliari, di fronte al palazzo, alla prefettura di Castello. Le parole a caldo di Sandro Murru, DJ e producer cagliaritano, sicuramente molto noto al pubblico giovanile e anche qualcuno meno giovane. Sandro, due considerazioni a caldo su questa manifestazione. Adesso è qua per testimoniare che siamo vivi e che siamo indispensabili alla cultura italiana. Non siamo un peso, come ha appena detto lo speaker, ma siamo veramente molto importanti. Io, essendo lavoratore dello spettacolo da tanti anni, dal 1980, volevo far sentire la mia voce. Non a un volume altissimo, ma a un volume giusto per che ci possano sentire tutti quanti. Quindi sono qua per testimoniare che siamo vivi e niente, che ci avete dimenticato. Quindi volevo, insomma, dirlo anche da questo canale. Volume giusto, ma le parole sono sacrosante. Il lavoro prima di tutto. Il lavoro prima di tutto è un lavoro nobile nostro e ogni lavoro va rispettato e non va assolutamente deriso. Quindi noi siamo gente che lavora nello spettacolo. Quindi viviamo anche di applausi, però non possiamo vivere di aria. C'è forse una mancanza di rispetto nel considerarvi non essenziali, un'attività non essenziale, quando invece comunque la musica, la cultura è essenziale in un paese come il nostro? Chi fa la radio, chi intrattiene un pubblico, fa sempre spettacolo. Quindi siamo indispensabili, soprattutto anche in questo momento, che la gente è disperata e ha bisogno di qualsiasi cosa per aggrapparsi. Noi i lavorativi dello spettacolo siamo in grado di fornire questi aiuti. Grazie Alessandro, in bocca al lupo. Grazie a voi.